Percy. Percy aveva visto Frank circondato da orchi cannibali, lo aveva visto sconfiggere un gigante indistruttibile e perfino liberare Thanatos, il dio della morte. Ma non lo aveva mai visto più terrorizzato di così, di fronte a loro due addormentati nella scuderia. Che... il figlio di Poseidone si stropicciò gli occhi. Oh, ci siamo solo addormentati. Frank deglutì. Indossava scarpe da ginnastica, un paio di pantaloni scuri con le tasche e una maglietta delle Olimpiadi Invernali di Vancouver, con il distintivo da centurione appuntato sul colletto. Percy trovò quel particolare triste e ottimista insieme, dal momento che ormai l'amico era un disertore. Frank distolse lo sguardo, come se la vista di Anne avete perso insieme potesse fargli male agli occhi. Tutti pensano che siate stati rapiti, disse. Stiamo perlustrando la nave già da un po'. Quando il coach lo scoprirà... Oh, santi, non mi siete stati qui tutta la notte? Frank! Le orecchie di Annabeth erano rossofragola. Siamo scesi qua giù soltanto per parlare e senza rendercene conto ci siamo addormentati. Fine. Beh, ci siamo baciati un paio di volte, aggiunse Percy. Annabeth lo fulminò con lo sguardo. Non mi stai aiutando! È meglio che... Frank indicò la porta. Dobbiamo incontrarci a colazione. Ci pensate voi a spiegare cosa avete fatto? Cioè, non fatto? Non ho nessuna voglia che quel fauno, cioè satiro, mi uccida. Frank corse via. Quando tutti finalmente si riunirono in mensa, la situazione non era tragica come Frank aveva temuto. Jason e Piper erano soprattutto sollevati. Leo non la piantava di sorridere e borbottare. Un classico! Un classico! Soltanto Hazel sembrava scandalizzata. Forse perché, in fin dei conti, era una ragazza degli anni 40. Continuava a sventolarsi la faccia con la mano ed evitava di incrociare lo sguardo di Percy. Naturalmente, Edge diede di matto, ma Percy faticava a prenderlo sul serio, con il suo metro e mezzo d'altezza. Ma in vita mia! stava strillando il coach, gesticolando con la mazza e rovesciando un vassoio di mele. Contro le regole! Irresponsabili! Coach, è successo per sbaglio, intervenne Annabeth. Stavamo chiacchierando e ci siamo addormentati. E poi, se continua così, comincerà a somigliare a Terminus, aggiunse Percy. Edge so' chiuse gli occhi. Mi sta insultando, Jackson? Perché se è così? Ti termino io, bello mio! Percy si sforzò di non ridere. Non succederà più, coach, promesso. Ora, non abbiamo altre cose di cui discutere? E va bene, ma ti tengo d'occhio, Jackson. Edge fumava di rabbia. E tengo d'occhio pure te, Annabeth Chase. Pensavo che avessi un po' più di sale in zucca. Jason si schierì la voce. Riempiamoci il piatto, gente. Cominciamo. La riunione fu una sorta di consiglio di guerra tra le ciambelle. Ma del resto, al campo mezzo sangue, erano abituati a tenere le discussioni più serie intorno al tavolo da ping pong della sala ricreativa, con tanto di cracker e formaggio. Così, Percy si sentì praticamente a casa. Raccontò il sogno agli altri. I giganti gemelli che si preparavano ad accoglierli in un parcheggio sotterraneo munito di lanciarazzi. Nico di Angelo intrappolato in una giara di bronzo, che moriva poco a poco di asfissia, con semi di melagrana ai piedi. Eisel soffocò un singhiozzo. Nico, oh, santi nomi! I semi! Sai che cosa sono? domandò Annabeth. Eisel annui. Una volta mi li ha mostrati. Sono del giardino della nostra matrigna. La vostra matrigna? Percy aggrottò la fronte, poi esclamò. Ah, Persephone! Aveva incontrato la moglie di Ade una volta e lei non era stata propriamente affettuosa e accogliente. Percy era stato nel suo giardino degli inferi, un posto inquietante pieno di alberi di cristallo e fiori rossi come sangue e bianchi come fantasmi. I semi sono la nostra ultima risorsa, un cibo d'emergenza, spiegò Hazel. Percy intuì che era nervosa. Tutta l'argenteria della tavola si stava spostando verso di lei. Solo i figli di Ade possono mangiarli. Nico ne ha sempre portati un po' con sé, nel caso finisse incastrato da qualche parte. Ma se lo tengono davvero prigioniero... I giganti stanno cercando di adescarci, intervenne Annabeth. Danno per scontato che cercheremo di salvarlo. Beh, hanno ragione! Eisel fece scorrere lo sguardo intorno al tavolo e la sua sicurezza crollò. Non è vero? Sì, esclamò Edge con la bocca piena di tovaglioli. Ci sarà da menare le mani, giusto? Eisel, certo che lo aiuteremo, disse Frank. Ma quanto tempo abbiamo prima che... Cioè, sì, quanto tempo può resistere, Nico? Un seme al giorno, rispose Eisel a Franta. Se si auto induce una trance mortale. Una trance mortale? Annabeth aggrottò la fronte. Non sembra divertente. Così evita di consumare tutta l'aria, spiegò Heisel, come l'ibernazione o il coma. Un seme è in grado di sostenerlo per un giorno. A mala pena. E gli restano solo cinque semi, osservò Persi. Ovvero cinque giorni, oggi incluso. I giganti avranno fatto i loro conti per costringerci ad arrivare entro il primo luglio, presumendo che Nico sia nascosto da qualche parte a Roma. Non è molto tempo, concluse Piper. Posa una mano sulla spalla di Heisel. Lo troveremo. Almeno adesso sappiamo cosa significano i versi della profezia Il respiro dell'angelo che ha la chiave dell'eterna morte, i gemelli soffocheranno se lo vorrà la sorte. Pensa al cognome di tuo fratello. L'angelo è lui. Oh, santi numi, mormorò Heisel. Nico... Persi ripensò alla propria amicizia con Nico di Angelo, piuttosto travagliata. Una volta Nico lo aveva convinto con l'inganno a fare visita al palazzo di Ade e Persi era finito in una cella. Alla maggior parte delle volte, Nico si era schierato dalla parte dei buoni. Di certo non meritava di finire soffocato dentro una giara di bronzo. E poi, Persi non sopportava di veder soffrire Heisel. Lo salveremo, promise. Dobbiamo. La profezia dice che è lui ad avere la chiave dell'eterna morte. Giusto, concordò Piper in tono incoraggiante. Heisel, tuo fratello era andato a cercare le porte della morte negli inferi, giusto? Deve averle trovate. Ci potrà dire dove sono, continuò Persi, e come chiuderle? Heisel trasse un respiro profondo. Sì. Bene. È soltanto una cosa. Leo si mosse sulla sedia un po' imbarazzato. I giganti si aspettano proprio questo da noi, giusto? Quindi stiamo per finire dritti in una trappola? Heisel lo guardò come se avesse appena fatto un gestaccio. Non abbiamo scelta! Non mi fraintendere, Heisel. È solo che tuo fratello era conoscenza di entrambi i campi, giusto? Beh, sì, ammise la figlia di Plutone. Faceva avanti e indietro, continuò Leo, e non ha mai detto niente all'uno dell'altro. Jason si sporse in avanti con espressione cupa. Ti stai chiedendo se possiamo fidarci di lui? Me lo chiedo anch'io. Heisel scattò in piedi. Non credo alle mie orecchie. Nico è mio fratello. Mi ha riportato in vita dagli inferi e voi non volete aiutarlo? Frank le mise una mano sulla spalla. Nessuno sta dicendo questo, la rassicurò lanciando un'occhiataccia a Leo. E sarà meglio che nessuno ci provi. Leo sbatte le palpebre. Sentite ragazzi, io volevo solo dire che Heisel, lo interruppe Jason, Leo ha sollevato una questione giusta. Mi ricordo come era Nico al campo Giove. Ora scopro che frequentava anche il campo mezzo sangue. E mi sembra quantomeno ambiguo. Sappiamo veramente da che parte sta. Dobbiamo solo essere prudenti. A Heisel tremavano le braccia. Un vassoio d'argento volò verso di lei e colpì il muro alla sua sinistra, macchiandolo di uova strapazzate. Tu! Il grande Jason Grace! Il pretore a cui guardavo con rispetto! Tu, così giusto, il leader ideale! E adesso... Heisel batte un piede a terra e fuggì come una furia dalla mensa. Heisel! La chiamò Leo. Ah, cavoli! Dovrei... Hai già fatto abbastanza! Ringhiò Frank, alzandosi per seguirla. Ma Piper gli fece cendo di aspettare. Dalle tempo, consigliò. Poi rivolse uno sguardo di rimprovero a Leo e Jason. Ragazzi, siete stati davvero insensibili! Jason era incredulo. Insensibile? Sto solo cercando di essere prudente. Suo fratello sta morendo, ribatte Piper. Io vado a parlarle, insistette Frank. No, replicò Piper. Diamole il tempo di calmarsi da sola prima. Fidati di me. Andrò io da lei, tra qualche minuto. Ma... Frank sbuffò come un orso infastidito. E va bene. Aspetterò. A un tratto si odì il rumore di una forte vibrazione, simile a un grosso trappano, provenire dal piano di sopra. Efestus, disse Leo. Ho messo il pilota automatico, ma a quanto pare ci stiamo avvicinando ad Atlanta. Dovrò salire, sempre che sappiamo dove atterrare. tutti si voltarono a guardare Percy. Jason inarcò un sopracciglio. Sei tu il nostro capitana acqua salata? Qualche idea dall'esperto? C'era del risentimento nella sua voce. Percy si chiese se Jason non fosse segretamente offeso per il duello in Kansas. Ci avevano scherzato su, ma in fondo in fondo tutti e due covavano un po' di rancore. Impossibile far combattere due semidei senza che poi si chiedano chi sia il più forte. Non ne sono sicuro, ammise il figlio di Poseidone. Ci vorrebbe un punto centrale, in alto, in modo da avere una buona vista sulla città. Forse un parco con parecchi alberi. Non mi sembra il caso di atterrare con una nave da guerra in pieno centro. Nemmeno la foschia riuscirebbe a mascherare una cosa così enorme. Leo annuì. Ci penso io. E corse alle scale. Frank si risistemò sulla sedia. Percy era dispiaciuto per lui. Durante il viaggio in Alaska era stato testimone del suo avvicinamento a Hazel. Sapeva quanto fosse protettivo nei suoi confronti. Aveva anche notato le occhiate minacciose che scagliava spesso in direzione di Leo. Forse era una buona idea farlo scendere a terra per un po'. Quando atterriamo voglio fare un giro di perlustrazione ad Atlanta, disse. Frank, mi farebbe comodo il tuo aiuto. Vuoi che mi trasformi di nuovo in drago? Francamente non voglio trascorrere tutto il tempo a fare da taxi volante. No, replicò Percy. Voglio che tu venga con me perché anche tu hai il sangue di Poseidone nelle vene. Forse puoi aiutarmi a capire dove si trova l'acqua salata. E poi combatti bene. Frank sembrò tirarsi su. D'accordo. Fantastico, esclamò Percy. Dovremmo portarci anche qualcun altro. Annabeth? Oh no, giurò Hedge. Signorinella, tu resti qui dove sei. Annabeth lo fissò come se ne avesse appena parlato in un'altra lingua. Come scusi? Tu e Jackson non andrete da nessuna parte insieme, insistette Hedge. Squadrò Percy con un cipiglio malevolo come per sfidarlo a ribattere qualcosa. Andrò io con Frank e mister furbacchione Jackson. Gli altri rimarranno a guardia della nave e si assicureranno che Annabeth non violi altre regole. Fantastico, pensò Percy. Una gita per soli uomini. In compagnia di Frank e di un ero setato di sangue per trovare l'acqua salata in una città dell'entroterra. Che dire, ci divertiremo mondo.